Siamo al primo tempo di Everton Liverpool, siamo con il capitano dell'Everton delle finanze. Primo tempo come... Dura, parecchio dura. State 3-1, avete sciupato tantissimo. E questo paghiamo da una partita già contro i Chelsea, è una cosa da migliorare per il futuro. Speriamo di vincere questa partita. Bocca al lupo per la partita.